L'omeostasi è quella condizione di equilibrio dove vige il minimo consumo possibile di risorse e la massima stabilità. Walter Kengong, fisiologo statunitense, correo il termine di derivazione greca da omeosimile e stasi, stabilità. Tal'equilibrio oscilla all'interno di un range considerato dal nostro organismo accettabile. Consideriamo quindi l'uomo un sistema complesso, dal punto di vista biologico e psichico, a carattere autopoietico, che tende all'adattamento entro l'ambiente nel quale si trova a vivere. L'autopoiesia è un termine coniato nel 1980 dai biologi cilieni Umberto Maturana e Francisco Varena, a partire dalle parole greche auto, se stesso, e poiesis, creazione. Lo sistema autopoietico è quindi in grado di ridefinire continuamente se stesso. Possiamo quindi assistere ad un sistema circolare di feedback retroattivo, dove ogni informazione viene letta, interpretata e rappresentata internamente. Ciò comporta la costruzione di schemi e mappe quali guide per il nostro comportamento. L'interazione e la differenzazione tra stati interni e fattori esterni comporta la creazione dell'identità, intesa come senso di coerenza e continuità del sé, in alternativa all'ambiente. Tale sistema dovrà essere adeguato, ovvero dovrà possibilmente ottenere gratificazione, evitando perturbazioni di rinievo, ovvero disagio. L'autopoiesi garantisce tutto ciò che riguarda i fibri esterni e la relativa plasticità interna, e fa sì che il sistema resti il più possibile coerente e stabile, ma non eccessivamente rigido, o non sarebbe ovviamente possibile alcuna forma di adattamento. La rigidità, così come la eccessiva sensibilità, sono infatti caratteristiche patologiche, ad esempio nei disturbi d'ansia, dove si perde in parte la plasticità originaria, oscillando facilmente fuori dal range di cui si parlava all'inizio, assumendo una valenza difensiva riguardo determinate vulnerabilità personali. Come abbiamo detto, lo scopo è il raggiungimento di senso, significati e coerenza, per interpretare il mondo e agire nel massimo interesse possibile. La sfera di influenza attiva, ovvero il campo di percezione, si delimita appunto in esclusiva da ciò che percepiamo a livello sensoriale ed in termini psichici. Tuttavia l'omeostasi non va letta come estasi, va messa in come una tendenza al benessere. Difatti la prosperità psichica, intesa come attività intellettuale creativa, è collaterale e contingente all'impulso biologico, ed è sopprimibile però, in caso di necessità, a favore dell'equilibrio omeostatico. La psiche è in grado di influenzare i processi fisici, si vedono i disturbi psicosomatici, tuttavia questi ultimi restano alla base della piramide, vedete ad esempio la famosa piramide di Maslow. I sentimenti e le emozioni sono qui costrutti che ci danno indicazioni riguardo al mantenimento meno di tale equilibrio. I significati dell'esperienza si creano tramite immagini interiorizzate che seguono alla risposta emotiva. Se tali immagini vengono condivise e stabilizzate, allora si crea una cultura di significati che identificano l'atto sociale. Sarà quindi una soggettività in parte influenzata da tali significati condivisi che tenderanno a guidare il comportamento sociale dell'individuo. È da notare infatti come l'uomo sia, senza ombra di dubbio, un mammifero a carattere prosociale. Nei mammiferi la cooperazione è utile agli scopi della sopravvivenza, rinunciando a parte della propria indipendenza. Da qui la socialità, che può benissimo venire considerata in termini di utilità. I casi di fobia sociale, ad esempio, indicano chiaramente come il senso di appartenenza collettiva sia necessario a fini della sopravvivenza. L'organismo conserva tale istinto, trasbutandolo in necessità psichica, ma nemmeno la catena sociale può considerarsi i più importanti dell'ente individuale. Perfino l'autorismo e l'empatia nascondono convinienza, perché la creazione di un ambiente collettivo basato sulla cooperazione portano un ritorno sul piano dell'utilità e della gratificazione. Per George Mead, psicologo statunitense, il valore rappresenta il carattere di un oggetto e la sua capacità di soddisfare un interesse. L'intelligenza è la capacità di organizzare e scegliere la risposta maggiormente adeguata ad una situazione ambientale problematica. La risposta più intelligente sarà in conclusione la più vantaggiosa possibile. L'obiettivo principe, come ho già detto, è perseguire il benessere ed evitare la sofferenza. In conclusione, abbiamo visto come il sistema psichico dell'uomo sia un'organizzazione complessa che tende all'omeostasi, intesa come tendenza verso il benessere. Abbiamo visto altresì come l'adeguamento all'ambiente sia necessario come adattamento tra risorse interne e richieste esterne per la conservazione di tale equilibrio, che va necessariamente mantenuto all'interno di un determinato range. Formeremo quindi mappe e guide cognitive e comportamentali utili per definire il senso di sé e nel proprio giro anche all'interno di un contesto sociale di stampo utilitaristico. Alla prossima Alla prossima Alla prossima